Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vi parlo di un power bank con ricarica solare Andiamo quindi ad aprire la confezione e vediamo cosa è presente all'interno e il funzionamento di questo power bank Mentre vado ad aprire la scatola vi chiedo di mettere un mi piace sotto questo video per aiutarmi a crescere col canale e portare sempre nuovi contenuti, nuovi prodotti Iscrivetevi se non siete ancora iscritti per non perdere tutte le prossime recensioni dei prodotti che andremo a portare Ma adesso andiamo a vedere insieme il contenuto della confezione, questo power bank a ricarica solare Come vediamo si tratta di un power bank da 10.000 mAh con dimensioni abbastanza compatte per quanto riguarda la batteria Mentre invece rimane un po' più spessa la dotazione con i pannelli solari La struttura è unica, presenta una pratica cover nella parte superiore e posteriore del nostro power bank Con una piacevole finitura con grana leggermente più spessa La scritta del marchio Isdragon nella parte bassa E un comodo bottone con fettuccina che ci permette di andare a bloccare la parte dei pannelli dalla batteria stessa È possibile andare a separare la batteria direttamente dalla cover con i pannelli solari In questo modo quindi potremo anche usufruire del nostro power bank che come vediamo è molto molto sottile Senza l'uso della cover e dei pannelli solari Se non abbiamo bisogno magari di ricarica solare o della cover possiamo utilizzare la nostra batteria in modo assestante Se invece vogliamo portarci dietro anche la possibilità di una ricarica aggiuntiva con i pannelli solari possiamo andarla a inserire Come vediamo all'interno della cover è presente un connettore con due pin che vanno a interfacciarsi con i pin presenti anche all'interno della batteria Che servirà proprio per andare a trasmettere la carica erogata dai quattro pannelli solari forniti in dotazione Si tratta di pannelli solari ad alta efficienza in grado di andare a catalizzare quindi e trasformare in energia per ricaricare la nostra batteria Non possiamo pensare che una carica con pannelli solari sia l'unica soluzione di carica di questo power bank Infatti è possibile andare a ricaricare questo power bank da 10.000 mAh tramite la porta micro usb presente nella parte superiore Ovviamente all'interno della confezione è presente un cavetto micro usb che ci permette di andare a ricaricare la nostra batteria anche a una presa di corrente o a un portatile Nella parte superiore troviamo invece due porte usb che ci permettono di effettuare una carica dei dispositivi Abbiamo una porta usb per carica normale e una porta usb per carica veloce Non ha porte usb type c Come invece abbiamo visto nel video del caricatore da viaggio di cui vi lascio il link qua sopra nelle schede Come avrete già visto nella parte posteriore è disponibile un pannellino led con una luce Che si può attivare tenendo premuto il tasto posto sul retro e ci permette di accedere quindi all'uso di una torcia Che può essere anche attivata in modalità SOS quindi con un lampeggio o se schiacciato ancora una volta in modalità strobo Questo ci permette appunto di avere una funzione in più di questo power bank veramente multifunzione E' adatto soprattutto da portare magari in viaggio se andate in campeggio piuttosto che in camper Vado adesso a riporre il dispositivo in carica e vi faccio vedere come anche se abbiamo un faretto a led Riusciamo a mostrare il dispositivo in carica tramite proprio i pannelli solari Come vediamo quindi andando a mettere alla luce i pannelli solari il dispositivo entrerà automaticamente in carica Se invece andiamo a chiudere i nostri pannelli la batteria non sarà più in carica Nella composizione con custodia e pannelli solari avremo un peso di 395 grammi Che si andranno a alleggerire di molto invece utilizzando solamente il power bank Le dimensioni per questo power bank con ricarica solare sono abbastanza contenute Abbiamo 155 cm nel lato lungo, 80 cm per quanto riguarda il lato corto e un 30 cm di spessore Come consiglia anche il produttore è necessario mettere i pannelli solari direttamente alla luce del sole diretta E non attraverso un finestrino o ad esempio sul cruscotto dell'auto E come detto serviranno circa 20 ore di ricarica di esposizione al sole per effettuare una ricarica completa della batteria L'uso quindi dei pannelli solari per un power bank serve quindi per una ricarica di emergenza del nostro dispositivo Che invece abitualmente andremo a caricare attaccato alla corrente Come al solito vi lascio in descrizione il link per l'acquisto di questo power bank con pannelli solari Se avete delle domande su questo prodotto potete lasciare come al solito un commento qua sotto Cerco sempre di rispondere a tutti Spero che questo prodotto vi sia piaciuto Vi chiedo di mettere un mi piace o un non mi piace qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate E per supportarmi a portare sempre nuovi contenuti sul canale Se non siete ancora iscritti iscrivetevi cliccando sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare Per questo video con il power bank con i pannelli solari è tutto Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere Ciao da Enrico Ciao da Enrico